Il gol decisivo all'Aquila è un gol che è stato anche inserito nella galleria della Lega Pro tra i migliori della giornata. Sicuramente un gol importante perché con il mio gol sono riusciti a portare a casa tre punti molto fondamentali. Si sa che andare a vincere in trasferta non è mai facile. Sono contento della prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato sicuramente margini di miglioramento. Siamo andati la mano in campo e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti importanti. Sette punti in tre partite con due vittorie esterne. Ti immaginavi un inizio così? No, sicuramente andare a vincere in trasferta non è mai facile. Però è ben dimostrato di essere un gruppo forte, che ci ha voglia di arrivare, che ci ha voglia di fare. E quindi i risultati sono questi e siamo molto contenti. Domenico arriva la Nocerina. Una squadra forse ingiustamente sottovalutata. Sarà un avversario tosto? No, sicuramente sarà un avversario tosto. Perché comunque chi viene a giocare qua in casa da noi c'è sempre quella carica in più. Perché sanno che abbiamo un bel pubblico. Allora tutti vogliono venire a fare il partitone qua. Noi faremo di tutto per fare i primi tre punti in casa. Quindi ce la metteremo tutta.